6 dicembre 1975, sfila a Roma la prima manifestazione nazionale del movimento femminista. Sono migliaia le donne che da tutta Italia si riversano per le strade della capitale al grido di aborto libero, gratuito e assistito. È l'inizio di una battaglia per i diritti civili, come il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza, insicurezza e legalità. Un diritto conquistato con l'approvazione della legge 194 nel 1978. Le lotte del movimento femminista negli anni 70 hanno portato alla modifica del diritto di famiglia, all'istituzione dei consultori familiari, alla legge sulle pari opportunità, alla liberalizzazione dei contraccettivi, alla costituzione dei centri antiviolenza e alle case delle donne.